Ciao, io sono Tommaso e oggi impariamo a fare questo con DaVinci Resolve. La richiesta viene da Oscar che mi chiede come fare a dividere lo schermo in due parti praticamente, quindi la parte in cui è stata effettuata la color correction e la parte invece nuda, neutra, ancora da lavorare. Magari sfruttando anche questo spostamento per mostrare entrambe le sezioni di lavoro. Diamoci un'occhiata a schermo e vediamo di cosa stiamo parlando. Sfruttiamo il soggetto dell'altra volta, ovvero la bella ragazza bionda qui in sfondo, visto che vi è piaciuta moltissimo anche nell'altro video che trovate qui sopra riguardante le trasformazioni dell'immagine tramite il pannello inspector e diamo un'occhiata a com'era prima l'immagine e com'è diventata dopo. Per vedere com'era prima e com'era dopo, la shortcut da imparare è Alt-D nel pannello Color per disabilitare i nodi qui sopra, vedete? Alt-D. Se invece voglio disabilitare solo uno dei nodi, ad esempio il secondo, farò Comando-D e disabilito solo il secondo nodo, oppure Comando-D e disabilito solo il primo nodo. Non ci interessa la pagina Color attualmente, ma ci spostiamo nella pagina Edit perché vi voglio far vedere come andare a sovrapporre in realtà queste due immagini. Togliamo un po' di roba, se avrete piacere in un prossimo video vi farò vedere come suddivido la timeline e come organizzo le varie tracce video piuttosto che le tracce audio. Prendiamo il clip che ci interessa, ovvero questo qui, e andiamo semplicemente a duplicarlo posizionandolo sopra. Come si fa a duplicare un clip? Sempre nella pagina delle shortcut che, ricordatevi, dovete avere a mano ragazzi. Se non ve la siete ancora fatti, fatevela un bel foglio con tutte le shortcut di DaVinci Resolve. Ogni volta che ve ne dico una, ve la scrivete sul foglio. All'interno del corso completo che trovate qui sotto e di cui c'è ancora uno sconto sempre qui sotto in descrizione, trovate il corso completo dove appunto vi parlo di tutte le shortcut possibili e immaginabili che potete trovare all'interno di DaVinci Resolve. Abbiamo duplicato la nostra clip, ci spostiamo nuovamente nella pagina Color e la clip che abbiamo appena duplicato, vedete che sono diventate due adesso, la clip che abbiamo appena duplicato andiamo, pulsante destro, a resettare completamente i nodi. Torniamo nella nostra pagina Edit. E ci ritroveremo che il video, tolgo l'audio che non serve, il video superiore sarà quello senza la color. Se vado con il pulsante D per disabilitare la immagine sottostante, vedrete che avrò la mia immagine colorata. Non ci resterà altro che andare a selezionare la nostra clip. Vi ricordate il tutorial dedicato alla trasformazione dell'immagine? Ci spostiamo nel pannello Inspector di questa immagine in particolar modo. e andremo a utilizzare un crop. In questo caso il crop lo possiamo utilizzare sia facendo un doppio clip qui e andando a croppare l'immagine a destra piuttosto che a sinistra o sopra piuttosto che sotto ma se facciamo questo riusciremo solo ed esclusivamente a mantenere la nostra immagine stabile quindi che ne so prendiamo a metà la ragazza e gli daremo play e avremo questa situazione qui che può essere una soluzione ma se noi volessimo creare una condizione in cui si svela praticamente il nostro lavoro di color in questo caso potremmo utilizzare i keyframes Altro argomento sempre spiegato in maniera dettagliata qui sopra e soprattutto qui sotto nel corso completo Diamo un esempio di keyframe partendo da zero e gli diamo un keyframe iniziale Ci spostiamo all'ultimo frame e gli diamo questo effetto qua Vedrete che piano piano la clip si andrà a colorare Bene ragazzi questo è stato un tutorial super super compresso perché avete visto che grazie alla domanda di Oscar sono riuscito a creare un'altra piccola pillola di Da Vinci Resolve spero vi sia stata utile e che vi sia piaciuta come le altre e ricordatevi che comunque qui sopra c'è una playlist dedicata a tutte le pillole che ho fatto di Da Vinci Resolve fino ad oggi e sono parecchie e continueranno a crescere ricordatevi di iscrivervi al canale e ricordatevi di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi video il martedì ci vediamo online in diretta il mercoledì ci vediamo con le videoproduzioni e con le recensioni il giovedì ci vediamo con i corsi di Da Vinci Resolve non mi resta che salutarvi ci vediamo con il prossimo video ciao 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 ciao